Dipende sempre da noi, ma era una cosa, io non penso che sia giusto se una squadra non riesce a mettere insieme dei punti che debba arrivare seconda, parliamoci chiaro. Perciò dipende sempre da noi, se noi facciamo quello che sappiamo fare probabilmente ci arriviamo noi secondi. Quindi se poi per vari motivi non riusciamo a capire l'importanza di questo momento faremo altre cose. Io lo ripeto per l'ennesima volta, noi dobbiamo fare una bella partita, dobbiamo fare una partita tosta, quelle che sono le nostre qualità, le nostre capacità. Ci abbiamo giocato sopra un anno su certe qualità nostre, non è che possano venire meno tutto un attimo. Abbiamo fatto un pessimo primo tempo a Vibo, abbiamo perso secondo me anche meritatamente per quello che abbiamo espresso nel primo tempo. Bisogna dare le risposte sul campo, è inutile che abbiamo parlato molto, abbiamo fatto molto, però adesso le risposte le deve dare il campo. Se noi siamo la squadra che penso io, dobbiamo fare una grande partita, poi per il resto so chiacchiere. Sì, c'è la paura anche di non rimettersi a posto velocemente, però io con questi ragazzi ne abbiamo anche parlato, ne abbiamo parlato anche in settimana. Forse involontariamente qualcuno ha staccato anche un po' la spina. Se loro ritengono che fosse già fatta è chiaro che poi fa fatica a rimetterla in piedi, no? Quando parti come a Vibo non puoi dopo rimettere in piedi una partita, perché poi ti inizia a girare tutto male e la partita la perdi.